Ho premuto, si è uscito un dischetto rosso Eh, poi lo vado Punto! Punto, arriva Può bastare? Aspetta, prendo un'altra inquadratura Arrivederci con l'altra Via, sui Via, up Vai Vai Via 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 Su, alla costa Alla netto Alla netto Alla netto Via 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 In la spida Vince sempre L'esperienza Grazie a tutti.